Da 90 anni siamo impegnati per migliorare la qualità della vita. Continua innovazione e sostenibilità guidano la nostra crescita. Nel nostro novantesimo anniversario confermiamo l'impegno per creare valore nei nostri territori. Un centro di ascolto dove preveniamo il disagio giovanile, le difficoltà di apprendimento e comportamento, il nostro impegno per contrastare dislessia, deficit dell'attenzione e bullismo. Un servizio gratuito per la famiglia e gli insegnanti. Tre centri dove collaboriamo da oltre 20 anni con le amministrazioni locali e la scuola per migliorare la qualità della vita dei cittadini di oggi e di domani. Dare a chi vive senza fissa dimora e in grave emarginazione una nuova opportunità, una nuova speranza. Questo è l'obiettivo del progetto che abbiamo condiviso con Banco Alimentare e il centro diurno Ronda della Carità. Dal pasto giornaliero al monitoraggio della salute, attraverso il centro diagnostico italiano, fino all'ingresso in azienda, con tilocini formativi per imparare un mestiere. Ed anche formazione, supporto psicologico e un contributo per migliorare i servizi del centro diurno. Un progetto dove competenze diverse generano valore per la città. Perché investiamo nello sport giovanile? Lo sport è qualità della vita, è crescita e benessere. Tre elementi che accompagnano da 90 anni il nostro modo di fare impresa e innovare nei territori. Centinaia di ragazzi si allenano ogni giorno per migliorarsi, fare squadra, conquistare vittorie, ma anche per affrontare sconfitte. Sono i bambini e i ragazzi delle nostre società sportive. Sono i nostri piccoli grandi eroi che da più di 15 anni vestono con orgoglio i colori bracco. Storie, emozioni, immagini di ragazzi che sono ormai parte del nostro mondo. Sono loro che animano e danno significato al progetto We Play the Future. Sono loro che si impegnano ogni giorno per vincere la partita più importante, quella con il futuro. Storie, emozioni, immagini di ragazzi che sono ormai parte del nostro mondo.